Un no alla riforma costituzionale che è soprattutto un no sociale. Questo governo con l'accentramento dei poteri nelle mani del governo, limitando le competenze delle regioni e degli enti locali, di fatto esclude le assemblee elettive dalla possibilità di tener conto delle opinioni e degli interessi dei cittadini. Quindi è un accentramento dei poteri finalizzato all'aumento delle privatizzazioni e quindi a quel taglio dei diritti e degli interessi dei cittadini a cui abbiamo già assistito. Per cui questa vicenda del referendum è anche l'occasione perché il paese possa dire un no, che è un no sociale, cioè un no a questo peggioramento pesante delle condizioni di vita a cui ci sta sottoponendo il governo Renzi. Siamo sotto l'ambasciata tedesca anche per mandare un segnale in una duplice direzione. È il primo che non accettiamo un gerenzo esterno sulle scelte che riguardano il nostro paese, tantomeno dal governo e dai ministri tedeschi. Il secondo luogo è per mandare un segnale su quello che noi riteriamo che sia il bersaglio grosso di una battaglia di libertà, di una battaglia democratica e di una battaglia popolare che sono i vincoli e la gabbia dell'Unione Europea che a nostro avviso è il vero mandante di questa operazione contro le Costituzioni nei paesi euro-mediterranei che è più da una battaglia referendaria, una battaglia di fase storica. È evidente che la manomissione della Costituzione la vogliono i liberisti, la vogliono quelli che hanno distrutto le pensioni pubbliche, che vogliono distruggere la sanità pubblica, che vogliono distruggere i diritti dei lavoratori. Quindi le ragioni della manomissione della Costituzione sono propriamente delle ragioni delle grandi poteri forti economici che vogliono togliere i vincoli che ci sono per poter fare quello che vogliono i loro porci comodi sulla società. Vergognoso anche che Renzi, che appunto fa finta di litigare con l'Unione Europea, tutto ha cambiato in Costituzione salvo che metterla la possibilità di votare sui trattati internazionali. Quella sarebbe stata una buona riforma. C'è una divisione di classe grande come una casa. Tutti i grandi manager, tutte le banche, tutti gli speculatori, tutti, tutti sono per il sì. E minacciano. Il popolo è per i no. Speriamo che il popolo sia così forte da reggere la pressione di questi ultimi giorni perché mi pare chiaro che stanno giocando sporco in tutti i modi, con la televisione, con i ricatti, con i trucchi, con tutto. Vogliono vincerla a tutti i costi perché vogliono la loro Costituzione. La Costituzione che dice che non c'è più il popolo, ma le banche sono sovrane. Grazie a tutti.